salve a tutti sono il professor samani francesco e faccio questo video perché molti mi hanno chiesto ma dove mi vuoi mandare privatamente un messaggio su facebook quindi utilizzando messenger piuttosto che whatsapp eccetera eccetera perché non sappiamo come accedere al tuo canale allora basta andare su youtube e digitare il mio nome e cognome francesco samani vi comparirà la scritta professore eccetera eccetera francesco samani ci cliccate e in automatico vi compaiono le varie playlist le playlist non sono nient'altro che delle cartelle accomunate eventualmente dal fatto di trattare uno specifico argomento quindi magari troverete la playlist di matematica piuttosto che di fisica piuttosto che di ingegneria meccanica e questa è una mia diciamo è una cosa che dovrò fare il prima possibile è quello di mettere qui sopra tra le playlist la playlist relativa ai concorsi perché questo canale lo sto utilizzando in maniera sistematica da una decina di giorni devo dire che siete in tantissimi che mi state scrivendo e in passato avevo creato delle playlist corso d'inglese video preparate musicali piuttosto che video popolari eccetera eccetera che erano cose più che altro personali che avevo creato avevo fatto cinque sei anni fa comunque in ogni caso a scanso di quibici e andate sulla playlist nella playlist tra ci troverete e penso che questa volta troverete prima la playlist per quelli che sono interessati ovviamente alle lezioni matematica di lezioni matematica ma per il concorso docenti la vedete che c'è questa playlist qua c'è la maturità 2020 questo è proprio relativo al concorso docenti visualizza la playlist completa e a quel punto voi potete anche mettere riproduci tutti e in automatico youtube ve li riprodurrà tutti come qualcuno mi ha chiesto ma come faccio a iscrivermi al canale ma diciamo che questa tradizione ci dovrebbe essere scritto il tasto iscriviti poi ci dovrebbe essere la campanellina ad attivare potete mettere mi piace se vi è piaciuto il video e potete aggiungere commenti io li lascio sempre aperti perché ogni vostro ad esempio ci può fare altri video relativi agli esercizi questi sono dei ringraziamenti che non sono delle richieste qui potete inserire tutti i commenti che volete o che ritenete utili o dei suggerimenti che volete dare ai vostri colleghi ad esempio questa mattina giustamente uno un collega o uno studente non lo so mi ha detto sì è bellissimo quello che crei ma ci dai dei riferimenti di link o dei riferimenti testuali e io ovviamente mi sono scritto in agenda di fare anche questo video un'altra persona di voi mi ha detto ci vuoi fare un video relativo alla all'oms alla l'ici idh l'icf e il prossimo video sarà proprio su questo un'altra collega mi ha chiesto un video relativo alle metodologie didattiche e in agenda ho previsto anche questo quindi insomma per seguire il canale basta mettere a una c'è c'è una premessa per iscriversi al canale in realtà dovete avere un account gmail quindi qui vi dirà accedi se non avete l'account gmail non vi potete iscrivere pazienza allora se vi volete iscrivere ecco la campanellina se vi volete iscrivere la campanellina che vi aggiorna essenzialmente quando io inserisco un nuovo video se vi volete iscrivere dovete per forza avere un account google quindi ad esempio gmail e con quell'account potete iscrivervi se non avete la possibilità o non volete iscrivervi o non voi non avete un account gmail non fa niente e però non potete entrare con il vostro account quindi quello che cambia che non potrete mettere mi piace e forse credo nemmeno commenti e nemmeno iscrivervi al canale e a quel punto l'unica cosa che potete fare scrivere francesco samani andare qui in automatico youtube vi metterà qualcosa relativo agli ultimi miei video farà una cernita e vi dirà dei video che magari mi sono piaciuti o che mi sono visto però se volete entrare nel canale cliccate qui andate sulla playlist e poi dalla playlist scegliete quello che vi interessa molti di voi in realtà sono tanto che c'è molto seguito relativamente al concorso docenti quindi credo l'ottanta 90 per cento di voi sarà interessato a questa playlist ci sono 12 video altri ne sto caricando relativi proprio al concorso docenti 2020 va bene io vi saluto vi auguro buono studio buona giornata e insomma spero presto di sapervi c'è di spero veramente che presto voi possiate diventare tutti i colleghi di ruolo che vengano riconosciute tutte le vostre abilità tutte le vostre capacità e anche insomma il fatto che spero molti di voi amano questo lavoro e desiderano magari cercare di migliorare la scuola e prodigarsi insomma per aiutare tutto quello che gira intorno la scuola la cultura la conoscenza agli studenti l'investimento insomma per il futuro vi auguro buona giornata ciao a tutti